Sono ancora oltre 1.300 i bondisti aretini azzerati dal decreto salvabanche rimasti a bocca asciutta, in attesa del rimborso forfettario all'80%. Si è concluso infatti lo scorso gennaio l'invio delle domande per il ristoro. Feder Consumatori Arezzo ha presentato 1.923 istanze al fondo per un controvalore di quasi 35 milioni di euro, ma ad oggi ne sono stati rimborsati appena 561. Una normativa che dice che entro 60 giorni otterrà il rimborso e qui siamo già a qualcuno ormai a 5-6 mesi e non ha visto niente. La vicera è stata un'angoscia e comincia a farsi strada nelle persone. Noi ovviamente cerchiamo di rassicurarli, ma poi alla fine ci dobbiamo muovere per dire ma insomma cosa facciamo perché in qualche modo questi tempi siano accelerati. Abbiamo chiesto un incontro al sottosegretario Barretta, vogliamo chiedere al governo cosa intenda fare per tentare di accelerare queste pratiche. Però noi abbiamo intenzione anche di presentare un'interrogazione a tutti i parlamentari della circoscrizione retina perché durante il cosiddetto question time facciano un'interrogazione precisa nei confronti del governo, nei confronti del ministero. Inoltre Federconsumatori avvalendosi dell'assistenza di uno studio legale di un pool di avvocati è intenzionata ad agire per via giudiziaria contro gli ex amministratori della banca e contro la società di revisione e certificazione dei bilanci. Se c'è la bancarutta fraudolenta c'è stato malagestio, distorsione di capitali e quant'altro e quindi è il nostro dovere per tutelare le persone e costituirsi parte civile in quel processo. Nel processo del bancarutta fraudolenta. Lo faremo e diremo alle persone di costituirsi anche loro. Perché lo chiederemo? Agli obbligazionisti perché l'80% non è il 100% e poi lo faremo fare anche agli azionisti perché gli azionisti sono fuori da tutto questo contesto. Altra strada percorribili che sicuramente percorrerete è quella dell'azione di responsabilità nei confronti della società di revisione. Se ci sono soggetti che certificano i bilanci e certificando i bilanci danno un rating alla banca alto e qualcuno con questo rating investe i propri soldi perché dà fiducia a quella banca, viceversa che la banca è la decotta, perché non deve essere chiamato a rispondere delle proprie responsabilità? E per illustrare tutto questo Federconsumatori ha messo in calendario un ciclo di 20 assemblee che prenderanno avvio i primi di aprile. Gli spiegheremo cosa gli proponiamo di fare, come intendiamo procedere, gli spiegheremo anche i costi che ci sono e ognuno farà le proprie valutazioni.